Preoccupazione all'ospedale Mazzini di Teramo per un denso fumo, un principio d'incendio che si è diffuso dalla struttura della centrale elettrica? La centrale termica di nuova costruzione non è ancora andata in servizio e gli operai che stavano sistemando facevano alcune opere di saldatura hanno scatenato questo incendio sicuramente grazie al calore delle saldatrici che hanno scatenato questo tipo di incendio. L'imbiando non ancora va in funzione, non ancora ci viene consegnato dalla ditta, non ci sono state ripercussioni all'interno dell'ospedale su nessuna attività. Di fatto non è stata la centrale a prendere fuoco ma una struttura che la collega a un container? È una struttura di nuova costruzione che serve come scambiatore di calore e il recupero del calore stesso, serve per efficientare ancora di più il sistema di riscaldamento.